Che cosa ti ha insegnato questa esperienza di stare un anno e otto mesi a casa agli arresti domiciliari? Innanzitutto vorrei sottolineare perché ho piacere a dirlo, che ho accettato questa intervista perché chi opera e chi intervista per me ha un valore. Quindi ho detto no a tante testate, la domanda diretta ha una risposta diretta. Io ho imparato in questo anno e otto mesi a lavorare sulle piante, io sto vivendo da 15 anni con un bonsai che è nella mia toilette, nel mio bagnetto e vedendo questo bonsai ho capito tante cose perché sappiamo tutti che le mutazioni climatiche tra le realtà che più hanno resistito sono le piante, più ancora degli animali. Allora partendo da questa realtà, dato scientifico, mi sono detto se io riesco nel tempo a trasformare questa tragedia in qualche cosa di diverso, che ancora oggi a distanza di un anno e otto mesi non so dirvi che cos'è, ma non è importante dire cos'è. Però la cosa importante è che ieri il pubblico ministero, Claudia Terracina, che nel novembre del 2013 ha deciso di provvedere con una misura cautelare e quindi mandandomi in galera, a Regina Celi sono stati 19 giorni, lo stesso pubblico ministero dopo che Daniel, e ovviamente omettiamo il suo cognome, uno perché lo amo, due perché va tutelato lui ma soprattutto i suoi genitori, anche se i genitori di Daniel sono attualmente costituiti parte civile contro di me, io voglio tutelarli perché li ho conosciuti. Mi ha insegnato caro Tommaso due cose sostanzialmente in questo periodo, uno, che se si sbaglia nella vita si deve pagare, e numero due, la cosa più importante, ho imparato a una grande lezione di vita, che proprio Tommaso dieci anni fa, non ieri, mi stava in tutti i modi cercando di trasmettere, cercare sostanzialmente di amarmi, nella forma giusta, io cito Laro Antonelli che ho conosciuto, che sappiamo alla fine che ha fatto, io ho una grande difficoltà, mi amo troppo e mi amo troppo in modo sbagliato, Daniel, nella famosa estate del 2013, mi ha permesso di poter amare e quindi imparare ad amare una persona più di me stesso, ringrazio Dio ogni istante Tommaso, di aver conosciuto questo ragazzo e a lui dico, grazie tanto ieri, Daniel, di essere venuto con una forza di volontà straordinaria a raccontare che anche lui mi ha amato e anche lui ancora oggi ha molto affetto per me. I miei avvocati, Lorenzo Lamarca e Massimiano Kurmuller, stanno facendo miracoli, però vorrei concludere, perché è chiaro un po' di stanchezza non mi nasconde, poi mi sento un po' spaesato, io che ero sempre in mezzo alla strada, ancora non credo a questa dimensione di libertà, però posso solamente dire a tutti che chi avrà la fortuna di incontrare Daniel, e mi auguro che soprattutto Daniel possa incontrare una ragazza che possa amarlo, dico ragazza perché Daniel con me ha fatto, diciamo un'eccezione, ha scoperto con me un altro lato di sé, ci siamo amati, ho festeggiato il suo diciassettesimo compleanno il 2 novembre a Montemario, ho amato e amo un ragazzo che ha dello speciale, che